di affaticamento, abbiamo bisogno di un turbo contro lo smog, contro la vita poco sana e vi invito a chiamarci subito all'840884400 e vi presento la testimonia che ha scelto a fare più noi facciamo con l'iniziativa 10 in più avete 10 euro di sconto sul primo acquisto per darvi il benvenuto quindi state spendendo 19,90 euro per tre integratori che è Rosanna, parliamo proprio del contenuto, visto che abbiamo tantissime amiche in linea l'attesa è gratuita e vi invito a farvi passare in diretta per salutarci e per raccontarci questa scelta 7 vitamine e 5 minerali, come cambieranno il nostro benessere? immagina che buisce al normale metabolismo dei macronutrienti ecco che cosa significa questo? credo a Marco di dirmi quante siete in linea, 6 mesi di benessere, coperture di benessere e lì sotto Rosanna, sotto al mio piede, c'è un numero in tempo reale che ci dice il numero di pezzi venduti sono 4.400, 4.500, 4.600 in questo istante grazie amiche, state in linea all'840884400 perché l'attesa è gratuita o saltatela con più passo sul sito ma l'opportunità è essere le prime a provare un lancio italiano che poi per tutti infatti guarda, la cosa che io voglio fare è di avere questa miniera di salute e usufruirne ogni giorno e noi non ti ringrazieremo ma è abbastanza Rosanna degli alimenti che contengono vitamine la pelle con questo prodotto